Concerti a teatro partono questo venerdì al Teatro Civico della Spezia in una terza edizione che, possiamo dire, apre già in grande. Ma quest'anno abbiamo deciso di inaugurare la stagione con un'orchestra sinfonica. Credo che fossero parecchi anni che il Teatro Civico non ospitava un'orchestra sinfonica, l'orchestra Leonor, insieme a un pianista importante. È un'orchestra di giovani, di giovani musicisti nazionali, che ha ereditato la tradizione dell'orchestra Mozart, che fu una geniale intuizione di Claudio Abbado. Ecco, questi giovani sono stati riuniti in un nuovo orchestra, con il sostegno di una fondazione bancaria, che è quella di Pistoia, con la quale noi collaboriamo. Quindi è un appuntamento molto importante e anche simbolico per inaugurare una stagione di concerti al Teatro Civico. Ecco, lo abbiamo detto in altre occasioni, il Teatro Civico è già pieno per le opere teatrali, ora speriamo che sarà pieno, insomma, anche per questa rassegna, che dà comunque un valore aggiunto culturale all'offerta della nostra città. Ci saranno anche delle opportunità per conoscere meglio le opere che saranno poi interpretate? Sì, nella fase invernale, perché il calendario poi proseguirà dopo l'orchestra, il concerto inaugurale, con gennaio, febbraio, marzo. Ecco, i vari concerti saranno preceduti da un incontro preparatorio, da una sorta di guida all'ascolto, che si terrà qualche ora prima dello spettacolo, presso il Teatro Civico, e sarà curato da musicisti e docenti del conservatorio, che quindi aiuteranno gli spettatori a conoscere meglio l'opera, l'artista, le varie modalità di esecuzione. Quindi un modo ulteriore per aiutare la cultura musicale, la diffusione della cultura musicale nella nostra città. Diciamo che segnali positivi ci sono, invitiamo tutti a partecipare. Beh, io mi auguro che gli spezzini trovino stimoli ulteriori, l'hanno già fatto in questi anni. Investire in cultura non deve essere considerato un costo. Ecco, io credo che anche la politica di prezzi ha la sua importanza, ma non deve essere visto come una spesa di consumo. È un investimento importante per il futuro di tutti noi.